35 perché l'ho avuto al Porto ed è stata una buona esperienza, mi ha portato fortuna e quindi spero che continui a portarmi fortuna qua a Bologna. Sono molto contento di questi primi giorni, mi sento già parte della famiglia, molti miei compagni parlano inglese e posso fare riferimento a loro per qualsiasi necessità e cominciare a lavorare bene con loro. Sono stato sotto contratto con il Trabzonspor fino al 26 di luglio e dopo mi sono sempre allenato da solo, che è un po' diverso da allenarsi con un gruppo. Credo che mi ci vorranno ancora uno o due settimane di tempo per essere al top della forma e sono sempre stato fortunato perché ho sempre avuto dei buoni preparatori in tutte le squadre e riesco ad entrare in forma molto velocemente. Conosco Amsic, sono suo amico, siamo compagni di distanza nazionale e l'ho già sentito telefonicamente ed è felice e mi ha dato il benvenuto in Italia. È capitato nella mia carriera di aver giocato in più paesi e questo è molto interessante perché impari nuove cose, da nuove mentalità, nuove culture, però non era una cosa prestabilita. È successo e adesso sono molto contento di essere in Italia e di affrontare la Serie A. Non conoscevo nessun giocatore personalmente, nessun mio nuovo compagno di squadra, li conoscevo alcuni di nome come Diamanti ad esempio. Non ero mai stato a Bologna prima ma ne avevo sentito parlare e mi hanno detto che a livello di qualità della vita è probabilmente meglio che già in Italia.